E in occasione del riconoscimento dedicato a San Giovanni Paolo II, a San Ferdinando di Puglia, l'artista Davis Manoni ha ricordato quali sono gli insegnamenti ispirati proprio dal santo polacco, Francesco Rossi. Un ricordo personale di Giovanni Paolo II, che cosa le ha lasciato? Proprio in questo periodo in cui c'è molto terrore in giro, Giovanni Paolo II lo voglio ricordare per quello che è stato ferito durante un attentato ed è tornato comunque in mezzo alla gente. E quindi il suo segnale è quello di si può ricominciare, non bisogna avere paura nella vita ed è quello che in questo momento storico penso sia la cosa più importante. Lei ha puntato tutto sulla musica scegliendo la strada di Tiziano Ferro, perché questa scelta? Io credo che nella vita ci sono anche delle casualità, io mi ritrovo con una voce molto simile alla sua, sono innamorato dei brani che scrive e tra l'altro siamo nati un giorno di differenza l'uno dall'altro, quindi tutte queste casualità hanno portato a questo, gli studi, anche gli studi di canto, io ho studiato canto lirico e quindi siamo qua. Sei parato dalla nascita? Sì, diciamo di sì, artisticamente parlando. Grazie.